Mi dai 10 euro per uscire? Che scusa usi per non dare soldi? Il paranoico! Non te li do per il tuo bene, hai le mani bucate! Ma veramente voglio andare al cinema, puoi tenere sotto controllo come spendo i miei soldi direttamente dall'app di Intesa San Paolo Mobile, grazie al Parental Control e a per me conto app! Guarda! Mi dispiace non se ne parla, devo tutelarti, lo faccio per il tuo bene, lo capisci? L'economista! Amore, non posso darteli per il semplice fatto che devi fare attenzione al valore effettivo di fare economia, cioè se io te li do, poi non si può fare niente, capito? Però, però, se vuoi, ti posso dare questi 20 centesimi, tieni, mi raccomando, fateli bastare fino al prossimo mese, poi forse passiamo a 40 centesimi! L'accusatore! Mi dai 20 euro per andare al cinema? Non posso darteli, ho finito i contanti! Papà, mi hai aperto per me conto app, con Intesa San Paolo, e puoi mandarmi i soldini con l'app, grazie a PermePay! E credi che i soldi me li regalano? Eh? E tu che cosa fai per contribuire al benestare della famiglia? Eh? In grado! Ma, ma... In grado! Ti tolgo la paghetta, ti tolgo tutti i soldi che hai, tutti quanti! L'economista parte 2! Va bene, ti do queste 5 euro, ma valgono anche per il regalo di Natale, per il prossimo compleanno e per la laurea! Pai... Basta! Ma nonno, ho 15 anni! Appunto, economia! Fagli un buon uso e un giorno sarai ricco! Il non è un mio problema! Se tagli l'erba in giardino tutti i weekend per un mese, avrai i tuoi 20 euro, ok? Ma, ma non abbiamo un giardino! Non è un mio problema, torna a studiare! Lo sbrigativo! Mi dai 20 euro per... Il fuggitivo! Ma non posso darteli, li ho spesi tutti durante il Black Friday, poi vabbè il Natale, insomma... Spese varie, quindi non ne ho più! Ma il Black Friday c'è stato una vita fa, dai, dammi i soldi! Ehi, non scappare! Dove stai andando? Torna qui, torna qui! Il pesce rosso! Nico, sono venuto per riprendere i soldi che ti ho prestato! Scusi, ma chi è lei? Non mi ricordo! Ma come non ti ricordi? Dai, ti ho prestato i soldi la scorsa settimana, devi ridarmeli! Ma, mi stai evitando? Stai facendo finta di non sentirmi? Pronto, polizia? C'è un uomo che mi sta derubando! Ma, ma che stai dicendo? Venite subito! Correte! Sono io! È armato! L'animalista! Vorrei darteli, ma purtroppo devo pensare al funerale del mio cane! Che è morto! Ma tu non hai un cane! Lo so che non c'è più, non ricordarmelo! L'impattato! Devo andare al centro commerciale, mi prestereste i 20 euro per il parcheggio? Un semplice no sarebbe bastato! Dai, avresti potuto darmeli con pochi tap, grazie a per me paid intesa San Paolo! Sei davvero tirchio! E voi? Che scusa usate per non dare soldi? Scrivetelo nei commenti! Scrivetelo nei commenti!